Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, io da oggi, da oggi vivo, che me devi dire, dove vai? Non ti ho mai presentato amici miei del cantiere, simpatici, un giorno ti presento, ma hanno fatto lo scherzo, una cosa da non crederci, che hanno fatto sti fide, hanno preso la schedina, quella che ti ho portato oggi al ristorante, hanno cancellato i numeri, quelli che avevo giocato, e hanno messo i numeri, quelli veri, quelli che hanno vinto veramente un sacco di soldi, ma come gli abbiamo detto, non ho trovato un'idea, veramente formidabile, praticamente, ti devo dire una cosa, è uno scherzo, è uno scherzo, è uno scherzo, non mi ha vinto un cazzo, non c'è una lira da prima, non c'è una lira da prima, amore, oddio, aiuto! Tutte a me, tutte a me, nasco povera, vivo nella miseria, il momento in cui decido di dare una svolta alla vita mia, di seguire l'uomo che amo, mi ritrovo pezzente, mi ritrovo, mannaggia a me, mannaggia. Ma figuratevi, ma come favo? Dico, io c'ho solo 76 euro dentro quel beauty case, non c'avemo casa, non c'avemo sordi, non c'avemo lavoro, tu quanto c'hai? Cento euro, no, cinquanta, cinquanta ho bruciato. Cento ventisei euro in sette? Quelli già se odiano così, da ricchi, pensa quando gli dimmo che sono diventati poveri, partiranno certi vaffanculo. E allora non gli diciamo niente, eh? Ma va! Scusa, non gli diciamo niente, capito? Per due mesi stavamo zitti, si inventavamo qualcosa, capito? Col sentimento, come posso dire? Sì, si accetta meglio la povertà. Ma dico tu sei matto. La cassa la tengo io, eh? La cassa la tengo io, eh?